L'inflazione scende del 95%. Il Paese è per la prima volta in surplus finanziario, cioè lo Stato sta guadagnando più di quello che sta spendendo. Ma tutto questo a che prezzo? Perché a quanto pare la povertà è aumentata. Buongiorno a tutti, dottore e dottoresse, qui Marco Costanza, educatore e divulgatore finanziario e anche consulente Bitcoin. Quest'oggi ho dovuto, direi che questo è il termine giusto, dovuto fare questo video, perché dopo aver pubblicato domenica un breve shorts, quindi un video di 60 secondi, dove pubblicavo queste notizie economiche come un interessante esperimento da andare a valutare, si è scatenato il putiferio nei commenti ed è diventata, come ovviamente facile chiaccada, solamente una battaglia di ideali, dove complottisti che dicono no, questi dati sono falsi, non capendo che sono dati economici, si attaccano con persone che dicono invece no, tu non capisci niente, così è come funziona il mondo, eccetera, eccetera, eccetera. Quello che mi piacerebbe fare oggi insieme è guardate qua quanti dati ci siamo portati a casa, ma non vi preoccupate, il mio scopo sarà quello di andare a riassumere tutti questi dati, ma portarvi delle prove concrete, che è quello che stiamo dicendo sta accadendo. Cercherò di rimanere il quanto più oggettivo possibile, soprattutto non trasformando questo bellissimo studio di questa situazione economica molto particolare nella classica lotta politica di sinistra, di centro, di destra, di su, di giù, di di lato, non mi interessa. Io e la politica siamo due cose totalmente separate, a me non piace minimamente il mondo della politica, lo trovo veramente molto ipocrita e quindi lo lascio fuori. Ma quello che a noi deve interessare, soprattutto da Bitcoiner, è questo interessante esperimento economico che Javier Milei sta facendo con l'Argentina, perché siamo di fronte per la prima volta ad un presidente che utilizza un approccio, diciamo, di un'economia austriaca, quindi un libero mercato, meno sovvenzioni, e a noi questa cosa deve importare perché vedendo come si comporterà l'Argentina, ma anche il mondo nei confronti dell'Argentina, e vedendo anche quello che scrivono e pensano le persone, possiamo capire se in un qualche modo siamo pronti ad un mondo del Bitcoin standard, siamo pronti a vedere un mondo che funziona in un modo diverso. Beh, al di là dei nostri pensieri, dei nostri ideali, Bitcoin sì, Bitcoin no, sinistra, destra, Milei sì, Milei no, quello che ci interessa è guardare oggettivamente quello che sta accadendo. Allora, partiamo subito con dei dati concreti. La prima cosa che si contestava, perché non è facile, ammetto, è così, non è facile capire subito i dati, era l'inflazione scende al 4,2%, e quindi subito qualcuno ha detto, ma non è vero, io cerco su internet e trovo che l'inflazione è al 300%. Allora, iniziamo con i dati economici. Il primo che andiamo a vedere è esattamente l'inflazione annuale. Lo possiamo guardare sia su Trading Economics, come io invece avevo suggerito di andarla a guardare direttamente su Trading View. sono dati che riportano, cioè sono portali che riportano dati economici. E vediamo che effettivamente l'inflazione year over year, cioè anno su anno, cioè io considero giugno 2024 con giugno 2023, e vedo in un anno quanto è cambiata l'inflazione. Ebbene, siamo a livelli ancora elevati, 276%. Ma la cosa interessante, guardate un po' il grafico, è abbastanza chiaro vedere quello che sta succedendo, è che per la prima volta, ma tenendoci anche stretti dal 2021, per la prima volta dal 2021, cioè in tre passa anni, l'inflazione in Argentina sta scendendo. Ma se noi andiamo a guardare l'inflazione mese su mese, quindi month over month, scopriamo che l'inflazione sta avendo un grandissimo picco. E quindi questo piccolo picco annuale, che comunque è già tantissima roba, si è trasformato in un'inflazione mese su mese, quindi giugno 2024 rispetto a maggio, rispetto ad aprile, rispetto a marzo, rispetto a febbraio, gennaio, eccetera, eccetera, ecco che sta scendendo veramente fortemente. Ora, questo era il primo dato che mi interessava mostrarvi, quello dell'inflazione. Questa cosa dell'inflazione, tra l'altro, adesso vedremo che è un po' sottovalutata, perché spesso si dice, vabbè, ma portare giù l'inflazione a che pro? Se poi l'economia sta andando un po' a ritroso. Allora, facciamo un passo indietro. Di tutto quello che vedete qua, quindi tutti questi articoli, queste cose da leggere, adesso vi faccio anche vedere un po' come funzionava l'inflazione, la povertà, eccetera, eccetera. Io vi metterò qua sotto in descrizione anche il link a questa chat con ChatGPT che renderò pubblica per voi, perché io ho messo, diciamo, tutte le fonti che ho utilizzato per prendere i dati, ma in più, per chi vuole un sunto, vabbè, è in inglese, ma voglio dire, si traduce ormai in tempo zero online, potete tradurre e guardare direttamente la fonte da dove ChatGPT ha preso queste notizie per prendere tutti i dati che vi interessano. Quindi io vi lascio anche il link di questa chat sotto nella descrizione. Vedete anche quello che io ho chiesto, così capite se effettivamente è veritiero o sono stato di parte, e vi potete leggere tutti i dati che vi interessano, così avete anche voi le prove che non sto cercando di far sembrare una cosa piuttosto che un'altra. Perché dico questo? Perché io mi sono, diciamo così, schierato personalmente, e qui quindi c'è della soggettività, nel dire ah, Milei ha fatto quello che viene considerato un mezzo miracolo. Ma il punto è che in questa soggettività, cioè il mezzo miracolo, è vero, perché l'obiettivo di Milei era abbassare l'inflazione e quando lui si è insediato, non è che si è insediato con ah, e vai, adesso arriva Milei e salva tutti. No, l'opposizione era abbastanza contraria, tant'è che è il primo presidente a prendere un approccio totalmente opposto rispetto al passato. Cioè il suo approccio è stato dobbiamo tagliare i ministri, dobbiamo tagliare le spese pubbliche, è stato lui stesso il primo a tagliarsi gli stipendi, e quello appunto dei suoi collaboratori, proprio per dare un segnale, per dimostrare che non ci sarebbero stati sconti. Tutti questi tagli hanno portato a questi dati, che adesso appunto vi ho fatto vedere, adesso vediamo anche il surplus, ed è, ripeto, qualcosa di miracoloso, perché? Perché essendo che gli altri politici erano contro di lui e mi sono anche informato da quello che ho capito, perché poi io stesso mi informo prima di dare delle notizie, non nasco onnisciente, e ho capito che effettivamente è come mi aspettavo, cioè Milei ha il partito più debole nella storia della presidenza, cioè benché lui abbia comunque il consenso da parte del popolo, le persone che hanno intorno, diciamo, tutto il suo partito, rispetto alla posizione, è molto debole. E quindi ho pensato, come fa ad attuare tutto quello che vuole attuare? Gli metteranno sempre i bastoni tra le ruote, gli andranno sempre contro. Nonostante questo, è riuscito ad ottenere questi dati, ed ecco perché ho parlato di miracolo. Infatti, oltre all'inflazione, che abbiamo visto poco fa, abbiamo anche quello che viene definito il surplus economico, ovvero quanto uno Stato guadagna e quanto spende. Guadagni banalmente a tutte quelle che sono le tasse, eccetera, e spendi, invece, da quello che è, diciamo, sovvenzioni pubbliche. Anche qui, come vediamo, per la prima volta, l'Argentina ha un surplus finanziario. Ma tutto questo a cosa ha portato? Ha portato a maggior povertà. E qui, olè, adesso qua ce n'è da discutere in maniera abbastanza approfondita. Perché diverse persone... Allora, facciamo così, facciamo prima un punto della situazione. Capiamo la povertà come è adesso e come era prima. Ho preso questi articoli, che vanno da dicembre 2023, il più aggiornato è questo qua di febbraio 2018, e qua si vedono bene i tassi di povertà. Vediamo che abbiamo raggiunto a gennaio un 57,4%. Ma è arrivata tutto ad un colpo sta povertà? Prima in Argentina si stava benissimo, adesso è arrivato Milei che ha portato la povertà ovunque. Beh, a quanto pare non proprio. Perché? A quanto pare la povertà era già al 44,7% nel terzo trimestre del 2023. A dicembre era al 49,5% e quindi è salita, sì, ma di un 8% dopo tutte... Diciamo, dopo l'insediamento di Milei. Ad oggi, l'articolo più recente che ho trovato dovrebbe essere questo qua, questo qua è di febbraio. Allora, questo qua invece faceva vedere la povertà nel 2022. Allora, il livello di povertà ad oggi, ad oggi in Argentina, volevo vedere se trovavo l'articolo che diceva esattamente il livello, anche se poi bisogna capire in base a come la calcolano. Ma vi faccio vedere una cosa ancora più facile. Vi faccio vedere direttamente i dati che abbiamo sia sul tasso di disoccupazione, che effettivamente è cresciuto parecchio, guardate nell'ultimo periodo come cresce il tasso di disoccupazione, e anche se vediamo i posti, i posti di lavoro, quindi le persone occupate. Guardate che crollo. Quindi è chiaro, si vede benissimo, che la situazione a livello economico è peggiorata per quello che riguarda la maggior parte della popolazione. Infatti, se poi vi andate a leggere anche qua la chat, si parla proprio, no? Io ho chiesto quali sono i pro e quali sono i contro. Ho detto nei pro abbiamo ridotto l'inflazione, abbiamo avuto un budget surplus, e adesso vediamo il terzo vantaggio. Adesso ci arriviamo. Ma a livello di contro, quindi di cose che stanno andando peggio, abbiamo aumentato la povertà, eccola qua, dal 45 al 57%, e qua ci si aspetta che salga dal 62 fino al 70%. L'economia è andata in contrazione, quindi c'è minor spesa delle persone, perché hanno meno soldi da spendere, e quindi spendono di meno, e quindi ecco che si vende anche di meno, quindi si guadagna di meno, c'è una contrazione economica. E in più ci sono delle tensioni sociali. Su questo punto qua, quindi rivolte, tensioni sociali, sicuramente c'è una grande fetta della popolazione che è discontenta, cioè che non è contenta di quello che sta facendomi lei. Ma c'è da dire un'altra cosa. Io ho personalmente amici argentini a cui ho messaggiato su WhatsApp e gli ho chiesto, allora vorrei farvi vedere il messaggio, allora vediamo se riesco a recuperarlo. Juan, 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 eccolo qua. E vedete, gli stavo chiedendo, vediamo se si vede qua. Vedete, how is going there since Milay has arrived, because a lot of communities in Italy are saying, oh no, it's worse than before now. E quindi, come si sta vivendo? Perdonate la battuta, siamo amici, perdonatevi la battuta. Allora, come dice comunque, però buongiorno, molto meglio, un sacco di compagnie stanno investendo, l'inflazione sta scendendo, il bilancio dello Stato adesso è in positivo, quando con l'ultimo governo siamo sempre stati in negativo. Ho detto, sì, ma a livello di vita dei cittadini, è meglio o è peggio? Ma ha detto, per noi è praticamente come prima, perché noi capiamo che questa cosa richiede del tempo. Non è peggio, continuiamo a lavorare come prima, ma con più speranza. Quindi, a me si è concesso che magari, ripeto, lui non è ricco, non è una situazione privilegiata, è una famiglia normalissima argentina, prendiamola come famiglia media, ma anche fosse lui che è un po' più ottimista. Nella popolazione media, che sicuramente in questo momento sta soffrendo, c'è da dire che non sta soffrendo a vuoto. Mi veniva contestato che, ah, però per ribassare l'inflazione aumenti la povertà, a questo punto è meglio l'inflazione. non capendo che l'inflazione che c'è stata fino ad oggi non ha reso le persone ricche. Cioè, eravamo comunque a un 49,5% di povertà, con tutti gli aiuti statali. E dunque, quello che non si capisce è che l'inflazione non è solamente un numerino su un monitor ai quali si attaccano i politici e gli economisti per dire no, dobbiamo abbassarlo, ma tanto è un numero. Ah, ma no, perché risolvere l'inflazione? Stampiamo altro denaro così non c'è problema. Diamo altre sovvenzioni così risaniamo il debito. Non funziona così. Cioè, quello che noi abbiamo visto è un paese che ha fatto per anni sempre la stessa cosa. E quello che noi andiamo a vedere poi a livello di inflazione è sempre cresciuta. Così come è sempre cresciuta la povertà. Ve l'ho fatto vedere prima. Era nel 2022 circa il 39% e poi è continuata a salire fino ad arrivare a quello che abbiamo visto del 49.5 e adesso quasi al 60%. Quindi serve una cura per far ripartire il paese. Ma in che modo il paese potrebbe ripartire? Perché mi sono chiesto anch'io, ma tutto questo però ha senso che c'è più povertà, l'economia si contrae e quindi come fa a riprendersi se poi l'economia non riparte? Perché dall'altro lato abbiamo quello che aumenta l'affidabilità e la fiducia nel paese. In questo grafico vedete quelle che sono le obbligazioni dell'Argentina. Allora le obbligazioni cosa sono? Nient'altro che dei prestiti che lo Stato richiede ai cittadini soprattutto agli investitori agli investitori anche esteri. E più il mio paese dà fiducia più io su questi prestiti che ricevo come Stato devo pagare meno interessi perché se io sono uno Stato che paga sempre sempre puntuale e in salute e sano ti dico guarda se tu mi dai un milione di euro io ti do sopra l'un per cento perché tanto sai che te lo ridò sei tranquillo. Ma se io sono uno Stato che va sempre in default che continua ad avere un deficit negativo che l'inflazione galoppa eccetera eccetera capite bene che prendere quel prestito mi costerà molto di più e quindi per me per finanziare il mio Stato per riuscire a ottenere delle sovvenzioni anche sarà molto più difficile perché più prendo prestiti più mi indebito meno riesco a ripagare quei prestiti più i prestiti che prenderò dopo costaranno di più ed è un circolo vizioso che continua a spirale se invece come vediamo qua la fiducia aumenta e le mie obbligazioni iniziano a diventare più appetibili io posso pagare meno quei prestiti quindi pago meno interessi pagando meno interessi utilizzo in modo più efficiente quei soldi e quindi come anche diceva qua il mio amico Juan nel lungo periodo attragggo le compagnie attragggo gli investimenti ed è un po' quello che sta facendo Javier Milei con l'IMF che adesso appunto per quanto poi io non sia un fan del Fondo Monetario Internazionale ha detto vabbè adesso che stiamo vedendo questi dati vediamo se riesco anche qua a trovarvi l'articolo perché ce n'è veramente tantissimi in giro allora ve lo scrivo qua IMF Argentina vediamo se esce allora è da cercare sulle news forse lo stesso lo stesso IMF ha detto ah finalmente stiamo guardando qualcosa di diverso allora aprile 2024 devo cercare qualcosa di recente però senza stare a farvi perdere troppo tempo nell'ultimo mese ok IMF board approvese l'Argentina payout di quasi 800 800 milioni IMF cosa è questa ? ok quindi l'MF ha approvato il payout di 800 milioni dell'Argentina come programma per appunto aiutare vabbè il paese è a risvilupparsi se andate anche a cercare bene lo possiamo anche chiedere a chat GPT allora cosa pensa l'IMF dell'operato di 1000 o per carità di 1000 e quindi allora adesso lui si fa le sue ricerche eccetera eccetera l'MF ha espresso strong support quindi un supporto molto forte per le policy di Javier Milley ora ripeto chi se ne frega se sono pro io per dire non sono un fan dell'MF quindi ah l'MF finalmente chi se ne frega a me non è il mio ideale che mi deve muovere ma il fatto che Milley con queste politiche sta attirando capitali in Argentina e attirare capitali significa poter investire cioè l'America non è lì perché è lì perché stampa una quantità di denaro che non ha senso ma questo è un altro discorso ma anche perché c'è fiducia nel paese le persone investono comprono le azioni di quel paese se in Argentina nessuno ci vuole mettere un euro e capite bene che il paese non può mai risollevarsi e quello che abbiamo visto finora era un paese che stava continuando ad andare verso il declino ad oggi sembra invece che la povertà sta aumentando come stava aumentando anche prima e come avrebbe continuato ad aumentare con l'inflazione quindi abbiamo aggravato la situazione nel senso che forse abbiamo accelerato il processo che stava portando al deterioramento delle condizioni economiche l'abbiamo fatto più in fretta del previsto ma questo ci permette anche poi di cambiare rotta cambiare direzione cioè arrivare a un punto in cui si ritorna indietro e i dati economici che abbiamo avuto sull'inflazione sul surplus ci dicono che le cose per ora stanno funzionando anche quelli relativi agli investimenti esteri ora io spero che questo mio discorso ripeto ovviamente avrò dei bias cognitivi che mi portano a dire sta facendo bene perché sono di parte io approvo questa sorta di politica monetaria ma perché? perché semplicemente come mio ideale ho quello di preferisco soffrire adesso nel breve periodo ma guadagnarci nel lungo periodo se invece noi cerchiamo sempre soluzioni di breve ah no non deve esistere la povertà dobbiamo curare la povertà all'istante qualsiasi soluzione che si cerca nel breve porterà a problemi nel futuro è sempre così una bilancia cioè è una legge naturale della quale non si può scappare ci sono sempre dei compromessi ci sono sempre dei trade off in questo caso il trade off è vogliamo rilanciare il paese e cambiare totalmente la direzione dalla quale stavamo andando bisogna soffrire di più nel breve periodo tutti i commenti che ho ricevuto anche su Instagram eh volevo vedere se ci fossi stato tu siamo tutti nello stesso mondo in Italia voi adesso siamo lì noi ridiamo commentiamo ma l'Italia ragazzi è messa veramente ma a livello di debito pubblico adesso non arriveremo probabilmente a livello dell'Argentina ma anche qua ci saranno dei problemi in futuro e io stesso benché qualcuno mi diceva pensare per il futuro nel frattempo siamo tutti morti chi se ne frega ho capito ma in questo mondo non ci dobbiamo vivere solo noi ci vivranno i figli i figli dei nostri figli i figli dei figli dei figli se noi vogliamo lasciare una un mondo migliore dove la crescita è sostenibile è graduale e non ci sono queste queste distruzioni vogliamo veramente risolvere la povertà che tutti viviamo bene e nel breve bisogna fare dei sacrifici perché altrimenti non si può risanare niente insomma senza stare a fare retorica è inutile se sto male devo prendere le medicine non è che la medicina è buona ah che bello sto male vado all'ospedale mi coccolano mi inteneriscono mi apriranno mi taglieranno mi faranno quello che mi devono fare mi causano nel breve più male ma poi guarisco cioè è una cosa estremamente logica che a me manda fuori di testa le persone che non capiscono questo concetto perché secondo me è la cosa più logica dell'universo soffrono in breve periodo per avere una cura nel lungo non esistono cure di breve che funzionano benissimo anche nel lungo sarebbe bello ma purtroppo non funziona così e quindi da una parte bisogna sbilanciarsi questo era il mio pensiero questa comunque era tutta quanta la verità anche che spero di avervi portato con dati oggettivi riguardo all'Argentina quello che sta succedendo noi sicuramente continuiamo a restare aggiornati perché ripeto al di là dei propri ideali è sicuramente una bella un bel esperimento a livello proprio di politica monetaria che va seguito per capire anche a livello fiscale come si comporta sia l'economia del paese che la popolazione che il resto del mondo per avere così dei parametri in più in futuro quando forse se mai bitcoin arriverà ad essere una valuta molto più riconosciuta a livello mondiale se siamo o non siamo pronti a questo tipo di di mondo dottori dottoresse grazie mille per l'ascolto se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace magari iscrivetevi al canale se volete altri video così di questa caratura lasciatemi sottoscritto nei commenti cosa vi piacerebbe approfondire ulteriormente e noi ci vediamo nuovi entusiasmanti video molto presto ciao a presto a presto